CORDOBA in Andalusia. In questa città spagnola la residenza per gli anziani intitolata a San Juan de la Cruz celebra il santo legato a Santa Teresa d'Avila e alla riforma dei carmelitani. La spiritualità di San Giovanni della Croce è legata al mistero di Dio e di sera per le strade di CORDOBA e nella piccola chiesa della Santissima Trinità il suo messaggio dell'anima si fa forte davanti all'Eucaristia. A proposito dell'anima che anela a raggiungere Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso mistico dell'anima nella notte, notte che si illumina quando si ricongiunge con Dio, come l'amato con l'amata. A proposito di Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso di Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso dell'anima A proposito di Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso di Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso di Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso dell'anima A proposito di Dio, San Giovanni della Croce cantò il percorso dell'anima